questo episodio clou praticamente dopo pochi secondi un clamoroso calcio di rigore negato al Napoli femminile su un nome impronunciato che si chiama Ries Dick però praticamente è clamoroso l'ho rivisto a rallenti era proprio una strattonata una maglietta clamorosa e poi il giorno dopo il Napoli femminile ha sollevato dall'incarico il direttore sportivo di Ingeo quindi è un momento molto difficile per le squadre campane anche perché poi parleremo subito dopo con Mattia Del Giudice anche della serie B ma andiamo al telefono dal giornalista di punta di questa bellissima trasmissione l'effervescente come di consueto Mattia Del Giudice ciao Mattia buongiorno ciao Mattia buongiorno ragazzi buongiorno a tutti come stai? qui fa un caldo bestiale è estate è scoppiata l'estate qua a Milano stessa cosa c'è un sole ormai in questi giorni da un po' di tempo che spacca le pietre e lo fanno apposta senti Mattia allora dicevamo prima leggendo un po' quelli che sono i risultati è una settimana importante in cui Juventus e Milan si confermano e c'è poi invece il Napoli calcio femminile che ristagna purtroppo a quattro punti in fondo alla classifica e poi c'è il Pink Bari fanalino di coda con tre punti il tuo solito punto sul campionato di serie A e poi parliamo anche di serie B si sono arrivate le due vittorie abbastanza prevedibili di Milano e Juventus contro Pink Bari e San Marino in attesa del big match di domenica prossima perché le due squadre che in questo momento sono sulla testa della classifica si affronteranno quindi ci sarà il grande big match per eccellenza di questa stagione Napoli ne avete già parlato voi non viene dato questo rigore clamorosissimo all'inizio partita e poi arriva questa sconfitta a corsa suolo per il tap-in di Santoro la Florenzia vince per la prima volta il derby contro la Fiorentina la prima vittoria nella storia quindi immagino che il paese stia ancora festeggiando anche oggi l'Inter guadagna un'importantissima vittoria contro l'Elas Verona di misura grazie al gol di L'Aria Mauro e infine la Roma continua a vincere non si ferma più baste 2-0 l'Empoli conquista il quarto posto e allora andiamo subito invece a fare una panoramica di quello che è il campionato di Serie B c'è stata una polemica incredibile con le dimissioni di Mister Esposito a Pomigliano dove la squadra delle Pantere finalmente dopo un inatteso scivolone riesce a vincere nuovamente torna a vincere e lo fa per 3-1 sul campo del Cittadella è stato solo un incidente di percorso un campanello d'allarme o secondo te c'è da preoccuparsi? secondo me non c'è assolutamente da preoccuparsi l'ha dimostrato sul campo del Cittadella che è una squadra comunque in forma quest'anno sta facendo molto bene ha messo in difficoltà molte squadre quindi è arrivata una vittoria di sostanza alla fine si era in vantaggio per due gol già nei primi nove minuti quindi non c'è stata storia il Cittadella poi ha provato a recuperare però è arrivato questo tra uno meritato da parte del Pumigliano che si conferma in vetta la classifica con dietro un Tavagnacco che continua a vincere quindi un risultato utile consecutivo mentre pareggiano come Lazio 0-0 quindi nessuna delle due riesce ad avvicinarsi alla capolista Mattia io vedo una classifica che comunque racconta un campionato a vincente perché c'è il Pumigliano a 33 il Tavagnacco 30 Riozzese Como 30 il Ravenna e la Lazio 27 poi c'è il Cesena a quota 27 quindi ci sono leggo almeno 6 squadre in 6 punti quindi sarà un campionato a vincente fino alla fine quante giornate mancano Mattia? Adesso siamo alla 17esima giornata le giornate sono 26 quindi mancano ancora 9 più i tanti recuperi però di cui bisogna sempre tenere il conto perché appunto il Tavagnacco è secondo sì con 30 punti però due partite ancora da giocare quindi virtualmente potrebbe essere giura a 36 e una di queste partite è proprio la sfida con il Pumigliano e allora andiamo al telefono dove ci aspetta un grandissimo professionista del mondo del calcio uno di quelli che il calcio lo conosce fin dentro le pieghe ed è uno che ha scritto anche la storia degli ultimi 40 anni del calcio sto parlando di Alberto Cavasin buongiorno mister abbiamo perso il mister proviamo con la regia a riprendere il collegamento mister Cavasin no dobbiamo dobbiamo riprendere il collegamento e allora Mattia dicevamo mancano nove partite alla conclusione del campionato di questo avvincente campionato di Serie B dicevo ci sono appena sei squadre cioè ci sono sei squadre in sei punti qual è la tua previsione? è imprevedibile questo campionato infatti è quasi più bello seguire la Serie B quest'anno che la Serie A i risultati sono un po' più scontati ci si aspettava tutta la vittoria del Milan della Juventus poi invece può davvero succedere di tutto perché come abbiamo visto il Pomigliano cadere in casa contro la Roma calcio femminile poi magari potrebbe tranquillamente battere la Lazio quindi è proprio un campionato in cui può succedere di tutto anche visti i tanti invii io però mi aspetta appunto che la Lazio pian piano venga sempre più fuori con Carolina Moraci in panchina e poi la seconda squadra che può salire davvero imprevedibile il Pomigliano però se continua così può davvero avere le sue chance e allora andiamo al telefono per vedere se abbiamo recuperato mister Alberto Cavasin mister buon pomeriggio buongiorno eccolo mister ha ascoltato la presentazione o devo ripetere no 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 vi ringrazio per le maestose parole che avete speso aggettivi che avete speso nei miei confronti meritatissime è stata solo una cosa sì è stato solo che i 40 anni lì che insomma potevano essere 20 no perché così voleva dire che ero un po' più giovane ma mister la giovinezza è nelle gambe nella testa nelle emozioni nel cuore mister parlavamo del calcio femminile voglio subito un suo parere sul futuro di questo movimento che sta cominciando a riscuotere un grande successo e soprattutto in previsione anche di una riforma che porterà poi le giocatrici ad essere delle vere proprie professioniste lei sente di dire che magari in un prossimo futuro magari a partire già dal prossimo anno magari fra due quando speriamo il covid si sia finalmente tolto dalle scatole lei si sente a disposizione di questo movimento eventualmente per dare il suo contributo di esperienza o secondo lei sono due mondi diversi quello femminile e quello maschile no no l'origine e la fonte è la stessa è la stessa poi ci possono ci sono dei valori magari fisici tecnici diversi però la fonte è quella e poi è la base c'è la grande passione che è il calcio e in questo momento in Italia negli ultimi anni c'è stata questa grande esplosione che in altre nazioni c'è già stata negli anni passati quindi il futuro è sicuramente eroseo bene perché negli ultimi due anni si è proprio messo in moto questa grande esplosione anche in forma concreta il tesseramento e l'avvicinamento di di molte giovani a livello anche amatoriale giovanile sono dei numeri bellissimi molto grandi si sono avvicinate a questo sport quindi lei andrebbe volentieri ad allenare una squadra magari di vertice che ha bisogno della sua classica impostazione forte importante del calcio sulla base di quella che è la sua storia perché comunque lei ha allenato club importantissimi tra cui il Lecce dove tra l'altro è stato eletto come miglior panchina d'oro e poi anche la Samp quindi stiamo parlando di un tecnico di altissimo profilo quindi vederla su una panchina di una squadra femminile sarebbe sicuramente cosa buona e giusta e soprattutto interessante sì io mi sarebbe una cosa molto molto gratificante io la vedo così perché io cerco sempre cose nuove cose dove posso imparare dove posso confrontarmi dove mi crea interesse la ripetitività non fa parte di me quindi sarebbe un'esperienza molto gradevole e ripeto gratificante perché perché vado vado a portare il mio modo d'essere nel calcio di quello che so però in un ambiente dove mi devo confrontare e vedere quanto riesco a trasmettere mister passiamo la serie a maschile ma l'Inter può perdere solo lei lo scudetto oppure pensa che c'è ancora tutto in ballo io penso che siano una grave tragedia di non so quale proporzioni tragedia sempre sportiva certo devono fare delle cose stranissime conoscendo anche Conte che non molla niente poi ha la squadra più forte ha sistemato tante cose e in più non gioca la cosa che gli dà un vantaggio enorme che non gioca alle coppe e quindi dove può scivolare la domenica si presenta si presenta sempre il top persone più forti stanno vivendo non è stanno vivendo un momento che non è che si possono rilassare lo stanno godendo ma sono quei momenti che li tieni per 4-5 mesi sono all'inizio del piacere non sono certo mister mister volevo chiederle una cosa ci sono i nostri ascoltatori e anche sul web ci sono alcune domande molto interessanti soprattutto una in particolare che riguarda la qualità del calcio italiano lei è stato avversario di Maradona in campo è stato allenatore di Del Piero quindi di numeri 10 se ne intende tantissimo qual è il momento attuale lo stato di salute sul versante della qualità del calcio italiano io penso che la qualità del calcio italiano sia inferiore a quello di 15 anni fa e oggi siamo forse la terza nazione a livello europeo alla pari forse con la Francia o anche forse un pelino più giù ma la Spagna però siamo in un po' in calo comunque perché qual è il motivo il motivo è che i giocatori più importanti è un discorso di economia vanno da altre parti noi abbiamo la Premier League ci manda dei giocatori che lì non giocano più e da noi sono giocano quindi questo vuol dire qualcosa la domanda di Mattia del Giudice per Alberto Cavasin e poi per concludere vorrei chiedere al mister una fotografia sul momento del Napoli prima Mattia del Giudice tanto buongiorno mister io volevo chiederle se appunto sta seguendo un po' la serie A femminile visto che comunque ci sarà adesso lo sconto tra Juventus e Milan secondo lei chi potrà avere la meglio Juventus è un classico sono appaiati stanno facendo bene tutte e due ci sono tre punti mi sembra la differenza 42-39 sì vengono da una serie di vittorie consecutive non c'è sono due squadre che stanno bene sono molto vicine quindi non c'è pronostico nel senso che può un po' succedere qui sicuramente il pareggio è quello che è il risultato più probabile però non ci sono indicatori per cui possa far pesare di più tra una squadra e l'altra il pronostico mister invece sul Napoli sul Napoli qual è il suo punto di vista cosa è accaduto quest'anno dopo un inizio sprint in cui si poteva pensare ad una stagione non dico importantissima ma comunque esaltante si è rotto qualcosa si è rotto qualcosa nello spogliatoio si è rotto qualcosa nei rapporti tra Gattuso e De Laurentiis diciamo da esterno cosa ha provato cosa ha pensato guardando la situazione del Napoli c'è stato c'è stato un momento in cui ci sono stati una coincidenza di incidenti che hanno fatto sì che la squadra potesse ha fatto qualche risultato in meno sul campo e forse qualcosa c'era dietro che covava qualche problema che ha accentuato e quindi ha accentuato di più la crisi dopo i risultati in campo le aspettative anche magari perché l'allenatore non mai mi sembra che l'allenatore con la squadra non siano stati problemi problemi con la dirigenza l'allenatore non sono quelli che poi vanno in campo non sono quelli problemi gravi secondo me non ci sono stati è mancato ci sono stati dei risultati perché ci sono stati degli infortuni c'erano delle aspettative grandi perché il Napoli era partito bene giocava bene e quindi nella mancanza dei risultati ci sono ripercosse come fosse stata una valanga sempre togliendo qualcosa e mettendo sempre di più in difficoltà alla squadra c'è stata poca serenità è venuto fuori qualche non critica che i risultati non sono stati dovuti alla critica però anche le pretese stesse dell'allenatore e della squadra erano molto alte quindi c'è stata una delusione interna prima che fuori per concludere lei con un flash velocissimo lei nel corso della sua carriera è tornato soltanto al treviso poi ha cambiato sempre squadra è andato sempre avanti fino a raccogliere soddisfazioni importanti lei da questo punto di vista vedrebbe bene il ritorno di Sarri a Napoli? di Sarri? sì sì sono cose sono cose che se vengono investite cioè c'è deve essere il presidente che che vuole Sarri Sarri che vuole Napoli e Napoli che a quel punto lì secondo il mio punto di vista apre le braccia a Sarri da vedere dall'aldifuori dal e se queste congiunzioni sono certo che uno vuole l'altro è una bella cosa si può riazzerare tutto e ripartire di grande slancio dopo tutte le cose si vede il meglio no? certo l'allenatore vede il lì posso fare il presidente dice questo mi può dare e il pubblico dopo dice ritorniamo quelli lì sì nessuno si ricorda più come si fa tante volte nelle famiglie certo certo io la vedrei bene poi Napoli è una cosa che sarebbe da Napoli questa no? perché Napoli dopo non se la rega il dito assolutamente è pronta ad abbracciare mister noi la ringraziamo per essere stato con noi in bocca al lupo per tutte le sue attività e alla prossima grazie di cuore grazie a voi grazie buon pomeriggio e allora Mattia l'appuntamento con te per martedì prossimo sempre intorno alle 15 e 5 gol position con te e poi nel frattempo tutti su cartellino rosa per gli approfondimenti e gli aggiornamenti sul calcio femminile ciao Mattia grazie ciao ragazzi ciao a tutti e allora andiamo in pubblicità state con noi perché arriva un ospite davvero eccezionale pubblicità gol position la voce del pallone che ha meno voce da Neuronics gruppo Tufano fino al 3 marzo Tecnofollie acquista due o più prodotti di cui uno di almeno 599 euro e il secondo meno caro ti costa la metà qualche esempio Samsung Smart TV 43 pollici 4k tua a 224 euro se acquisti un altro prodotto di almeno 599 euro e in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre 2021 da Neuronics gruppo Tufano ti conviene sempre Neuronics gruppo Tufano signora ma che succede qui non ho mai visto così tanta gente in coda per fare benzina ma che la regalano eh sì signor vigile da Tufano gomme ad Arzano Nola o Casandrino acquistando 4 pneumatici Goodyear ricevi fino a 40 euro di buoni carburante pneumatici nuovi e pure il carburante servizio completo da Tufano gomme ad Arzano Nola e Casandrino vada anche lei la promozione è valida dal 1 al 31 marzo Tufano gomme la tua officina dal 1961 caffè 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 mi apiccia la bocca ma fai con sopra ma mi hai visto il genio da andare Anni, è il nome del caffè? Ah, già. Caffè Siag. Azz, è pure saborito. Per la moda dei più piccoli, a Volla c'è Baby Model, il negozio specializzato in abbigliamento per bambini e neonati, con tante proposte anche per i corredini. Vieni a scoprire le nostre bellissime collezioni. E ricorda, da Baby Model puoi anche acquistare gift card e fare la tua lista di nascita con spedizioni in tutta Italia. Baby Model ti aspetta a Volla in via Don Luigi Sturzo 44. Per info, chiama il 339 43 63 497 e visita la pagina Instagram baby underscore model underscore r punto c. La pubblicità sul Radio Amore, il più bel modo per farsi sentire e conoscere. Chiama allo 081 195 77 330. Radio Amore, compagna di vita. Gol position, la voce del pallone che ha meno voce. 26 minuti dopo le 15, dopo Alberto Cavasin, uno degli allenatori che hanno scritto la storia recente del calcio italiano. Tuffiamoci, rituffiamoci nel calcio femminile. In particolar modo torniamo a Pomigliano, dove ci attende Giulia Ferranti, centrocampista del Pomigliano, capolista del campionato di Serie B. Buon pomeriggio Giulia. Ciao, buongiorno a tutti. E allora, dopo questo scivolone in campionato interno, inaspettato, ti chiedo subito cosa è successo la settimana scorsa. Cosa sta accadendo a Pomigliano? Ma capita, nel senso, essendo lassù qualche passo falso, ogni tanto si può stare. Ovviamente non ci aspettavamo contro la Roma sicuramente di perdere 4-1, soprattutto in casa, però va a mettere in preventivo. Cosa si è successo nello specifico? Non ve lo so dire, in realtà. Diciamo pure che lo sai, però non lo puoi dire per ovvie ragioni, ma questo è normale e non insistiamo. No, no, ci mancherebbe. Sono quelle partite che magari la squadra non c'è come dovrebbe, un po' di nervoso, poi magari prendi gol, rifai, vai di nuovo sotto. Ci sta, ci sta. Nel complesso si può stare, non così pesante, poi alcuni episodi che magari potevano andare a nostro favore, ma ogni domenica magari abbiamo qualche episodio a favore noi, e la domenica dopo non possiamo recriminare poi se ci viene tolto qualcosa. Dobbiamo essere brave noi a mantenere la testa sempre sul campo. Giulia, che vi ha detto il nuovo allenatore Emanuela Tess? Diciamo per motivarvi dopo quella sconfitta. Ma sinceramente non è che ha detto molto. Sendo arrivata subito martedì, ha cercato di far capire più che altro la persona che è lei, quanto sia esigente, quanta voglia ha di portare avanti il lavoro fatto fino ad oggi. Quindi stiamo lavorando, non siamo professionisti sulla carta ancora, però è un gruppo che lavora tanto e la stiamo già seguendo dal primo momento. Quindi secondo me ci toglieremo grandi soddisfazioni, anche perché ce lo meritiamo. Posso dirlo? Assolutamente sì, ma la classifica parla chiaro. Però voglio, non per alimentare polemiche, ci mancherebbe altro, ma giusto in rispetto ai tifosi. C'è un messaggio pulito, semplice, che da calciatrice del Pomigliano senti di mandare all'ex allenatore esposito? Ma noi ragazze non abbiamo nulla contro di loro. La società ha fatto le sue scelte, giustamente o ingiustamente, nel senso che chi decide sono loro. Quindi noi possiamo solo che ringraziare i mister, perché comunque se siamo lì è soprattutto merito loro e spero di rivederli prestissimo su un campo di calcio. E allora Giulia, tu hai grande esperienza nel mondo del calcio femminile, perché hai giocato con squadre importanti come l'Atalanta, il Brescia. Ti senti pronta per dire ai tifosi del Pomigliano che l'anno prossimo, magari scongiuri a parte, si va verso un'altra direzione, perché è chiaro che il livello del calcio femminile in Serie B sicuramente è rilevante, però in Serie A sicuramente c'è uno scatto in più. Senti di dire ai tifosi che il Pomigliano, dal punto di vista strutturale, sicuramente è già pronto. Ma secondo te come squadra, come spirito, vi sentite già di un altro passo, di un'altra categoria? Ma guarda, è una domanda difficilissima, nel senso che... Facili non ne ho! No, veramente quest'anno, avendo già vissuto il campionato di B, dove comunque c'erano due squadre su 14, si lottavano per salire. Quest'anno è veramente una sfida ad ogni partita. Quindi sicuramente ci sarà bisogno, se nelle prossime partite continueremo questa scea positiva e continueremo a dimostrare di essere le prime della classe, ci sarà sicuramente bisogno di incrementare, perché la Serie A non è la Serie B, soprattutto negli ultimi tempi, dove veramente il livello è aumentato tantissimo. sia a livello tecnico che soprattutto a livello atletico e fisico. Giulia, mancano nuove partite. Secondo te, qual è quella più difficile in assoluto? Dovete proprio fare attenzione, la state aspettando, come per dire... Stiamo calmi, stiamo calmi. Non voglio essere scontente, ma veramente stiamo aspettando ogni partita, dobbiamo stare calmi, dobbiamo lavorare su di noi, dobbiamo essere aggressive come abbiamo sempre fatto, quindi davvero mi fa quasi meno paura di fare contro la Lazio, contro la Riosiusecomo, che magari partite che sulla carta potrebbero essere più facili, come quella del Perugia, che secondo me non sarà assolutamente facile. Giulia, vuoi mandare un messaggio di auguri al nostro Alessandro Pennestri, che oggi compie i suoi anni, che spegne le candeline? Purtroppo oggi non può essere con noi, ma sicuramente gli mandiamo tutto il nostro affetto, la nostra amicizia, la nostra stima, quella di sempre, e quindi facciamo anche da parte del Pomigliano gli auguri ad Alessandro Pennestri, o no? Oltre agli auguri devo anche chiedergli scusa, perché oggi l'ho sentita, non sapevo fosse il suo compleanno, l'ho rimediata con un messaggino all'ultimo, quindi gli faccio davvero tanti, tanti, tanti cari auguri, che mi perdoni se non mi sono ricordata di mattina presto alle 8 di fargli il suo compleanno. Senti Giulia, invece facendo una proiezione sul campionato di Serie A femminile, prima abbiamo parlato sia con Cavasin che con Mattia Del Giudice di Cartellino Rosa su quelle che potrebbero essere le proiezioni del finale di stagione, se in Serie B siete voi le protagoniste, in Serie A c'è una Juventus molto molto lanciata. Tra l'altro voi avete affrontato, proprio le bianconere se non sbaglio in Coppa Italia, qual è stata la tua sensazione di sportiva, prima e di professionista di questo sport? Dico professionista perché ci avviamo verso la riforma, quindi è giusto, come dicevi anche tu prima, chiamarvi già così, perché vi comportate alla stregua dei professionisti ormai da molti anni, e quindi ti chiedo qual è secondo te la strada tracciata? Ci sarà questo scontro Juventus-Milan o prevedi la possibilità dell'inserimento in alta quota anche magari di altre squadre come ad esempio, non lo so, mi viene in mente l'Inter? Ma allora, per quanto riguarda questa stagione penso che la fida è prettamente tra Juventus e Milan per quanto riguarda la vittoria del campionato. Sarà interessante il prossimo weekend. Volevo dire Sassuolo, scusa, mi ho detto Inter che è molto attardata in classifica a 17 punti, ne devo Sassuolo, scusa. Sì, 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 ma guarda, rimango sempre della stessa idea, che saranno loro due le protagoniste fino alla fine, perché comunque perdere punti posso considerare i tre punti dello scontro diretto, però altri punti non ne perdono per strada, anche perché ho visto entrambi giocare, una proprio toccata con mano, in Coppa Italia non c'era la seguo, perché comunque conosco diverse ragazze e devo dire che sono secondo me le due squadre più preparate e più complete. Se dovessi fare un pronostico, chi vincerà tra Juventus e Milan? Però voi con le domande siete che sono dei cazzivi, eh? È il nostro lavoro. Giustamente. Ma io dico che per la continuità che ha vedo la Juventus un po' più favorita del Milan. E allora, Giulia, è il momento di scegliere un brano. Qual è il brano che ti rappresenta di più in questo momento? Allora, ho scelto Giorgio con Avro Cura di Te. A chi la dedichi questa canzone? È una persona che quando mi ascolterà sicuramente capirà. E allora, ringraziamo Giulia Ferrandi. Ascoltiamo. Giorgia, Avro Cura di Te. State con noi perché poi andiamo in pubblicità e ritorniamo per il grande finale, il rush finale di Goal Position. Ciao Giulia! Ciao ragazzi, grazie mille. Grazie a te. Ho visto un volo di gabbiani attraversare il mare Ho visto gente nel dolore con la dignità Ho visto il cielo come cambia quando fai l'amore Ho visto le parole finire tra le righe Ed una figlia che toccava il viso di sua madre Ho visto un uomo ed una donna non trovarsi più Ho preso schiaffi in faccia giudicati come amore Ho visto le persone non tornare più Conto le ore Aspetto il sole dell'anima Che sa che non finisce L'energia stupisce Perduto amore Lasciami stare così Sarà più facile Aver cura di te Avrò cura di te Ho visto un vento che nel tempo si fa ricordare Prima del grigio, del cemento, della civiltà Ho visto un uomo come cambia quando perde tutto Ho visto il tuo sorriso tracciare il suo confine Ed ho guidato per chilometri di terra Senza mai arrivare A un punto certo che di certo non ha mai sapore Ho visto le persone non parlarsi più Tutto il conto le ore Aspetto il sole dell'anima Che sa che non finisce L'energia stupisce Per tutto amore Lasciami stare così Sarà più facile Aver cura di te Con suo silenzio spazio E tutte le porte Mi spondiglia la mente Avrò cura di te Se non c'è perfezione Al mondo almeno una canzone Che ne parli di te E contro le ore Aspetto il sole dell'anima Che sa che non finisce L'energia stupisce Per tutto amore Lasciami stare così Sarà più facile Aver cura di te Aver cura di te Gol position La voce del pallone Che ha meno voce Problemi di capelli Grazie agli esperti Di Istituto Helvetico Sanders Hai l'opportunità Di effettuare Il test genetico Per la predisposizione Alla calvizie Trattamenti specifici Il trapianto capelli Con tecnica FUE E DHI Siamo in tutta Italia Istituto Helvetico Sanders Chiama subito E prenota La tua analisi gratuita Numero verde 800 283838 Chiama subito Istituto Helvetico Sanders Da sempre alleati Dei tuoi capelli Per trapianto Autorizzazione regionale Umbria 13388 18 Direttore sanitario Dottor Mazzeo Terra Neuronics Gruppo Tufano Fino al 3 marzo Tecnofollie Acquista due o più prodotti Di cui uno Di almeno 599 euro E il secondo Meno caro Ti costa la metà Qualche esempio Samsung smartphone A41 Tuo A 94 euro Se acquisti Un altro prodotto Di almeno 599 euro E in più Puoi pagare in 20 mesi A tasso zero Con prima rata A settembre 2021 Da Euronics Gruppo Tufano Ti conviene Sempre Euronics Gruppo Tufano Signora ma che succede qui Non ho mai visto così tanta gente in coda per fare benzina Ma che la regalano Eh sì signor vigile Da Tufano Gomi ad Arzano Nola o Casandrino Acquistando 4 pneumatici Goodyear Ricevi fino a 40 euro di buoni carburante Neumatici nuovi e pure il carburante Servizio completo da Tufano Gomi ad Arzano Nola e Casandrino Vada anche lei La promozione è valida dal primo al 31 marzo Tufano Gomme La tua officina Dal 1961 Caffè, caffè Cassì, caffè Quando si amara Ci doce sono qui Ma piccia la bocca Ma fai con sova Ma mi è tu geni e l'andano Anni E' il nome del caffè? Ah già Caffè Siag Azz E' pure saporito Con Fischi Schi Con Fischi Schi Fare la spesa è come un gioco Credi a me Carne, pesce, pizza e poi Pasta e gelate quanti ne puoi Con Fischi Schi Fresco ogni giorno tutto per te Fischi Schi I grandi centri del surgelato Forniture perenti Ristoranti, alberghi e al dettaglio A Somma Vesuviana Saviano Nola E Napoli Radio Amore Goal Position La voce del pallone Che ha meno voce 40 minuti dopo le 15 Se ascoltate questa voce Un po' ovattata E perché abbiamo indossato Per ovvie ragioni Di restrizioni covid Le mascherine Perché come potrete vedere Anche in webcam Abbiamo una Delle prime due ospiti Di questo pomeriggio Si tratta di due calciatrici Molto giovani Ma già molto promettenti Della SSC Napoli Femminile Presento subito Chiara Olmo Ciao Chiara Buon pomeriggio a te Buongiorno Buon pomeriggio Ti piace questa esperienza in radio Al fronte via Le tue emozioni quali sono Anche se abbiamo ovviamente Problemi di mascherine Che ovattano un po' la voce Sì sì è la prima esperienza Sono molto contenta E allora andiamo però subito al telefono Dove ci aspettano due dei responsabili Dei professionisti che accompagnano Questa trasmissione Da un lato Alessandro Pennestri Della LTA Agency E poi c'è il responsabile tecnico Di TSS Cristiano Giannotti Buon pomeriggio ragazzi Buon pomeriggio E allora diamo prima la precedenza Diamo la precedenza ad Alessandro Pennestri Perché oggi è il suo compleanno Se lo può permettere Auguri Alessandro Auguri Auguri Volevo fare gli auguri anche io C'è Chiara che ti fai gli auguri Grazie Grazie E allora ragazzi Presentiamo questo progetto Che è molto ma molto interessante Di cui già si parla tantissimo Youth Horizon Di cosa si tratta Alessandro? Allora Il principio base È quello di dare l'occasione A chi Delle ragazze Che non ha le opportunità Magari di un grande club Alle spalle Che le possano fare allenare In un certo modo Aiutare queste ragazze A crescere In questa crescita Che è necessaria Per una ragazza giovane Potere un giorno Arrivare a giocare in Serie A Per aiutarle Noi abbiamo fatto Una collaborazione Con TSS Con i professionisti Che TSS Mette a disposizione Per darle Un supporto Tecnico E tecnologico Affinché queste ragazze Utilizzino TSS Come se TSS Fossero tutti quegli strumenti Che un grande club ha Per aiutarle a crescere Quindi strumenti Professionisti Quindi fare in modo Che queste ragazze Facciano questo percorso Con noi Aiutando anche Il club Quindi club Un po' più piccoli Molti dei quali Sono quelli Del meridione d'Italia No? Certo Molti di questi Sono quelli piccoli Del meridione d'Italia Che non hanno Tutte queste forze economiche Ma noi abbiamo La possibilità Grazie al progetto Che abbiamo messo in piedi Di aiutare Queste ragazze A fare questo percorso Vediamo sul versante Tecnico Cos'è TSS Cristiano Buongiorno E auguri Alessandro Grazie Facciamo in diretta Gli auguri Stando già Un po' Sticato Quello che è il supporto Che noi vogliamo dare Abbiamo Inteso Questo matrimonio Tecnico Tra Quello che TSS LTA Fornendo Alle Giovani calciatrici Quello che forse Già in alcuni settori Professionistici Del calcio maschile Viene già Un po' Offerto Ai ragazzi Quello di dare Uno sviluppo Sia tecnico Integrato Con la tecnologia Per cercare Comunque Di educare E far crescere Le ragazze In modo più Professionale E anche più Professionistico E allora Passiamo Passiamo alla presentazione Di Chiara Olmo Chiara Quanti anni hai Il tuo ruolo in campo E come ti sei avvicinata A questa passione Del calcio Allora Ho 15 anni E Sono centrocampista Centrocampista Di Quali caratteristiche In particolare Sei un incontrista Una regista Sono Un po' Più fantasista Quindi sei Zielinski Eh Diciamo Eh Vabbè Comunque Questa passione Eh Non lo so Com'è nata Però Da quando ero Molto piccola Ho iniziato A 5 anni A giocare E È Cresciuta Sempre di più Questa passione In famiglia Quali sono i tuoi Riferimenti Di questa passione C'è tuo padre Tua madre In famiglia Mio padre Tifoso del Napoli Ovviamente E allora ti chiedo Subito Un momento Di fare la fotografia Del momento Del calcio Napoli Al maschile E poi ti chiedo Qual è il momento Invece Della tua squadra Che è l'Under 17 Sempre della SSC Napoli Targata Aurelio Dell'Aurentis Come stai vivendo Da tifosa A questo momento Del Napoli Allora Il Napoli Non Diciamo È sempre Stata La mia squadra Del cuore La sostengo Sempre Anche nei momenti Soprattutto Nei momenti Diffici Soprattutto Nei momenti Più complicati E Diciamo Non lo so Com'è nata Questa passione Del gioco Del calcio Cioè tu eri bambina E accanto Ai giochi classici Che si fanno Da bambini Avevi questa predisposizione Per il gioco Del calcio Come ti immaginavi Da grande E allora Da grande Non mi sarei mai aspettata Di Già da piccola Non pensavo Di arrivare A giocare A questa età In una squadra Professionistica E Qual è il tuo sogno Qual è il tuo obiettivo Dove pensi di poter arrivare Allora Il mio obiettivo Attualmente Spero Che Di crescere Col Napoli E arrivare Magari a formare Una prima squadra Col Napoli In Serie A Se Così non dovesse essere Spero Comunque di arrivare Molto lontano Fuori dall'Italia Senti C'è una rivalità Accesa Con Come si chiama Don Napoli Femmini Lo lascio dire a te Così non mi prendo Le mie responsabilità C'è una bella rivalità No c'è un derby Sì c'è Molta rivalità Tra di noi Infatti Quando giochiamo Ci vede proprio La rabbia in campo Una rabbia chiaramente Sportiva Di fare una scuola in Serie A Bisogna assolutamente Raggiungere dunque Il Napoli femminile Allora Alessandro Lei è un po' timida Ma è anche normale Perché è il suo primo Intervento pubblico Ti chiedo di presentarlo Dal punto di vista tecnico E quali sono I possibili modelli Da associare A Chiara Sia nella Serie A Femminile di oggi Del passato E anche nel calcio maschile Allora Innanzitutto Vi posso dire Che Chiara Ha dalla sua Sicuramente La tenacia Una ragazza Che non si fa passare Aspetta Una ragazza Tenacia in campo E anche fuori A dirvi il vero È un centrocampista Di costruzione Questo sicuramente Quindi L'esempio che avete fatto Suggeriti Può avere un senso Ti dico Ovviamente Sul calcio femminile Bisognerebbe avere Altri tipi di paragoni Ovviamente Il tipo Che Il paragoni Che tu devi fare È sempre Con la tua Mania Con una ragazza Che ti possa dare Un esempio Per il prossimo futuro Quindi Immagino lei E penso Di una vice parisi Potrebbe essere Un esempio Interessante Da darle Come ambizione Un giorno Di poter giocare Anche nelle squadre Dove ha giocato Alice Quindi io dico Secondo me Questo è un po' Il mio vedere Chiara in questo momento E la Chiara studentessa Invece Dove Dove studia? Allora Io Studio Al Vittorio Veneto A Piscinola Faccio L'Alberghiero Quindi Hai già le idee Molto chiare Quindi hai già scelto Il segmento Di riferimento Professionale Oltre il calcio E allora Ringraziamo Chiara Olmo Facciamo a lei Tanti auguri In bocca al lupo Per il proseguo Della stagione E della sua carriera E c'è un cambio Un avvicendamento Tecnico Tattico In questo momento Con l'altra Nostra ospite Che presenta Donato Martucci Ciao Buon pomeriggio A te Allora E Zaira Sì Zaira Entra Tutto Tutto Chiaramente In diretta In rispetto Di tutte le norme Ovviamente Anticovid Allora Visto e considerato Che prima Con Chiara Abbiamo Fatto Una presentazione Particolare La faccio anche Con Zaira Cuciniello Che Cuciniello È un nome Tipicamente napoletano Ci ricorda anche Un presepe Famosissimo Del Seicento Settecento Quindi Sei napoletana Doc Tifosa del Napoli Naturalmente E allora Facciamo anche con te La presentazione Che tipo di caratteristiche Tecniche hai E quali sono Dal punto di vista Dei tuoi ricordi Della tua infanzia I momenti Che poi ti hanno avvicinato A questo mondo del calcio Ok allora Prima di tutto Buongiorno E Allora Io Ho iniziato Anch'io Quando ero piccola Però non a 5 anni Ma a 10 E Giocando Nell'Oasi A Giuliano Poi dopo Cambiato tutto Andando nel Napoli E Come ti sei avvicinata A questo sport E allora Tramite dei ragazzi Mentre Giocavano Già al parco Mi sono avvicinata A loro Per vedere Cosa era Questo sport E Ti hanno fatto giocare Sì E quindi con grandi risultati Tra l'altro Perché poi sei approdata Al Napoli Vuol dire che le tue caratteristiche Sono importanti Alessandro Diamo una mano A queste ragazze Se per Chiara Abbiamo fatto Un esempio importante Nel calcio maschile Che è Piotr Zielinski Invece parlando di Zahira Cosa possiamo dire Beh io Ripeto Secondo me Il più 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 Almeno Nazionale Una ragazza Molto Molto Interessante Dall'esterno Dico Il mio punto di vista Su Di lei Quello che Deve avere Molto più Concretato Sulle proprie Possibilità E sapere Che ha Le opportunità Ovviamente Che tutti hanno Perché ovviamente È difficile Oggi Sono una ragazza Sì Ma in falcio E devi capire Che l'obiettivo Che si deve porre Non deve essere mai Quello che riesco a fare Ma Quello che Magari Gli altri Dicono Che non riesco a fare Ancora Quindi Qualcosa che va Oltre i propri limiti Che secondo me Oggi Per una ragazza Per una sportiva In genere È sempre Un obiettivo Alessandro Se puoi Magari Non so Se hai le cuffie Se puoi togliere No 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 Il telefono Probabilmente Ah ok Perfetto E invece A Cristiano Giannotti Voglio chiedere Di fare una domanda Sul versante Della preparazione Atletica Sul versante Fisico Alla nostra Zahira Per vedere Se è preparata Ovviamente Se è preparata Lei che dovrebbe Favarlo quando a me Perché se no Mi ha messo In difficoltà No Si clemente Si è un professore Clemente No No Più che altro Per le ragazze Sarebbe interessante Capire E ne hanno In gran bisogno Che tipo di lavoro Di forza Svolgono In campo Abitualmente Infatti poi Con loro Faremo anche Dei test atletici Prossimamente Per andare a valutare Questo Però una delle cose Più importanti A livello giovanile E per le ragazze Saper scegliere I lavori di forza E sapere Quali tipi di Lavori di forza Fanno Vediamo Zahira Quale tipo Di allenamento Gradisce di più Allora Io gradisco Più un lavoro Di fondo Un lavoro Più col pallone Un lavoro Tecnico Cosa ti piace Fare di più Sì Un lavoro Tecnico E dal punto Di vista Proprio Della Della voglia Di andare in campo Per allenarti Quando tu sei a casa E sai che fra due ore C'è l'allenamento Come ti predisponi Mentalmente Per andare Sul terreno di gioco Allora Io non vedo l'ora Di entrare in campo Prima di entrare Ovviamente Prima di allenarmi E Spero Che Dopo Cioè Verso la fine Dell'allenamento Ci sia comunque Una partita Tra di noi E Già so Perché Ci informano Prima della partita Del nostro Allenamento Se ci sarà Aerobica O Forza E Noi di solito Lunedì facciamo Aerobica Martedì Forza E il giovedì Facciamo Non so La partita La rifinitura No? Sì C'è una rifinitura Prima della partita Quali sono gli obiettivi Per il futuro Qual è il tuo sogno Cioè Al di là del Napoli Chiaramente Speri naturalmente Di indossare Quanto più a lungo possibile Questa maglia Azzurra Magari anche Di giocare in Serie A E soprattutto Di vincere Possibilmente Un campionato Hai anche Un desiderio Di indossare La maglia Della nazionale O secondo te Ancora troppo presto Per parlarne Io spero più Per la maglia Del Napoli Poi in futuro Se andrò In nazionale Sarà Non lo so Il top Mi piacerò Bisogna puntare Prima sulla squadra Di club Per poi pensare Di poter approdare Alla nazionale Alessandro Cosa vogliamo dire Come messaggio Sia a Chiara Che a Zahira Per il loro prossimo futuro E soprattutto Ti chiedo A proposito Poi del progetto Youth Horizon Qual è il messaggio Da lanciare Alle ragazzine Che ovviamente Si vogliono avvicinare A questo sport Sicuramente Il messaggio Che dobbiamo dare È quello che Mai Porre limiti Ai propri sogni Queste ragazze Sono un emblema Di quanto Sia importante Seguire un sogno Quello di poter giocare Con la maglia Della propria squadra Nel caso specifico Di Zahira E di Chiara La maglia Della propria squadra Del cuore Però dico in generale Mai mettere limiti A quello che è un sogno Non è mai Farsi dire Se sei donna Magari Non lo puoi fare O non sei in grado Di farlo Il messaggio Che vorremmo dare È che noi Attraverso questo progetto Possiamo aiutarvi Questo può essere Un messaggio positivo Da dare a tante ragazze Come Zahira e Chiara Zahira Abbiamo chiesto a Chiara E lo chiediamo anche a te Qual è la scuola Che frequenti? Rainulfo Drengot Ad Aversa Sempre alberghiro Quindi Anche tu hai Le idee chiare Cioè c'è la passione Del calcio Però c'è anche la professione Un domani Cosa sogni di diventare Parallelamente al calcio Al di là del fatto Che tutte Ovviamente sognate Fare giocatrici professioniste Però sicuramente C'è anche un altro sogno No? Sì Una receptionista Quindi vedi Le idee chiare Sono molto importanti Ragazze Non l'ho chiesto a Chiara State studiando anche l'inglese Perché magari Quando ci sarà la possibilità Magari Alessandro Pennestri Proverà a sondare Anche il mercato internazionale Il mercato inglese Il mercato francese Tedesco Sareste disponibili Ad andare In altre nazioni? Sì Infatti Credo Che all'università Parolinguistica Quindi studierai anche le lingue E allora Ringraziamo Zaira Cuciniello Ripeto Un cognome Fortemente napoletano Storicamente napoletano Ringraziamo anche Chiara Olmo E ci diamo appuntamento Chiaramente Con gli approfondimenti Che riguardano La SSC Napoli Sul versante Femminile E quindi Alessandro Pennestri Cristiano Giannotti Quali sono I prossimi appuntamenti Rispetto al progetto Youth Horizon Lo chiedo prima a Cristiano E poi a concludere Ad Alessandro I prossimi Forse Già nei prossimi giorni Faremo di test Provele Atletici Quindi Stiamo preparando Anche un po' I loro impegni scolastici Il giorno Per provare Le atletici Quello nel prossimo Futuro Già quest'estate Ampliare Quelli che sono I servizi Che possiamo offrire A queste ragazze Non solo sul territorio Campano Ma anche sul territorio Nazionale Alessandro Beh sicuramente Come dice Anche Cristian Uno degli obiettivi È quello di ampliare La platea Di possibili Usufruenti servizi Del progetto Quindi più Maggior numero di ragazze Maggior numero di possibilità Da dare a queste ragazze E ovviamente Io dico A chiunque fosse interessata Che ci ascolto Magari qualcuno che sa Che ci sono ragazze Che hanno Questo desiderio Che possa seguirci Sulle nostre pagine social Perché da lì Può prendere Tutte le informazioni Necessarie Per venire in contatto Con noi E con il progetto E allora Saluto e ringrazio Alessandro Pennestri LTA Agency Saluto e ringrazio Cristiano Giannotti Preparatore atletico Responsabile tecnico Del progetto TSS Vi do appuntamento Naturalmente A martedì prossimo Sempre dalle 15 Alle 16 Per goal position Ringrazio nuovamente Zaira Cuciniello E Chiara Olmo Due calciatrici Della SSC Napoli femminile Salutateci il presidente Aurelio De Laurenti Se doveste Vederlo Saluto E ringrazio Donato Martucci Del Corriere del Mezzogiorno Ringrazio e saluto Peppe Mojito Libischi In regia Da Luca Cirillo E tutto Con goal position Appuntamento Come dicevo Alla prossima settimana Buon proseguimento Con i programmi Di Radio Amore Campania Per quanto ci riguarda Ci ritroveremo Giovedì mattina Dalle 12 Alle 13 Con Indovina Chi viene in radio Parleremo Nuovamente di scuola E poi con Donato Martucci Ci ritroveremo Lunedì Dalle 21 Alle 23 Con l'ormai Consueto programma Di successo Vero Donato 8 marzo Festa delle donne Festa della donna E noi ce ne ricorderemo Assolutamente Con i tirapietre Da Luca Cirillo E tutto Buon proseguimento Di giornata Ciao Ciao Goal position La voce del pallone Che ha meno voce